I cosiddetti Next Generation Probiotics sono quei probiotici che ancora in questo momento non abbiamo presenti dal punto di vista commerciale e cioè in qualche modo rappresentano quei probiotici che fanno parte del microbiota core, cioè di quello veramente importante per la vita. Quali potrebbero essere i Next Generation Probiotics? Vi faccio due o tre esempi, senza dubbio Fecalibacterium prausnizi, che è questo grande firmicutes che ha un ruolo estremamente importante nel controllo, ad esempio, dell'infiammazione intestinale. O Ackermansia mucinifila, che è un batterio di straordinaria importanza, appartiene al grande fila dei verruco-microbia, quasi sempre è ridotto nei pazienti con malattie autoimmuni, è ridotto nei pazienti che hanno diabete, malattie dismetaboliche, obesità e già esistono trial clinici che dicono, perlomeno in modelli animali, che l'aggiunta di Ackermansia mucinifila può in qualche modo aiutare il calo di peso di questi soggetti, aiutarci a controllare il diabete. O, in questo caso, facciamo lo stesso esempio, alcuni batteri del genere Fecalibacterium, alcuni baceri del genere Roseburia, la stessa Ackermansia mucinifila, che si è dimostrato essere molto più ridotti nei pazienti che non rispondono all'immunoterapia, ad esempio per melanoma o per tumore del polmone. E ridare nei modelli animali questi probiotici, in qualche modo, causa il reverse, ristora la risposta all'immunoterapia. Ci piacerebbe a tutti avere questi probiotici nei nostri banchi, nelle nostre farmacie, nelle nostre parafarmacie. È questo che dobbiamo provare ad ottenere. Qual è il problema? Che i Next Generation Probiotics, purtroppo, appartengono al battere di tipo estremofilo anaerobio. Sono batteri che ad oggi è molto difficile produrre commercialmente, anche perché hanno una bassa emilita. E non è un caso che molti ricercatori stanno lavorando su loro prodotti di degradazione. Ad esempio, nel caso di Ackermansia mucinifila, si sta lavorando su alcune batteriocine prodotte da Ackermansia mucinifila. Quello che è certo è che il mondo del probiotica, del probiota, nei prossimi anni verrà stravolto. I probiotici del futuro sicuramente saranno diversi. È possibile che si utilizzeranno ancora dei probiotici attuali, casomai in combinazione, e, e io lo metto in mezzo alla grande categoria dei Next Generation Probiotics, sono certo che emergeranno presso degli studi che prendono i probiotici attualmente presenti sul commercio, ma proveranno a fare degli studi di dose finding, utilizzando cioè delle dosi molto molto più alte di probiotici. Chi ci ha insegnato questo? Il trapianto di microbiota. Il trapianto di microbiota ci ha insegnato che se vogliamo eliminare un clostridium difficile, dobbiamo usare fino a 100 mg di microbiota fecale. Capite bene? Vuol dire questo quasi 100 volte il dosaggio che attualmente utilizziamo con un probiotico. Quindi nuovi probiotici e nuovi dosaggi dei probiotici attuali.